Mamma, questi lavori a che età li hai fatti? Ne ho fatti 6-7 anni. Avevi 6-7 anni? Stavo al collegio dopo l'alluvione che fece a Salerno. Hai capito? Che anno era? 55-56. Avevi 6-7 anni. Avevi 6-7 anni e tu hai fatto questo punto a Croce che avevi 6-7 anni. Eh, vedi? Qua stavo facendo questo. Nel collegio? Nel collegio. All'ora della ricreazione. Vedi? Qua stavo facendo questo e poi l'ho smesso perché sono scocciato. Vedi? Questo è il cavallo che sta qua. Vedi? Guarda. Mh, bella. Brava. Senti, mamma, perché eri in collegio? Dopo l'alluvione i bambini piccoli li mettevano nel collegio mentre non si sistemava tutta la situazione delle case, capite? E i vostri genitori dove erano? Eh, erano quando stavano nelle scuole. Ah, ho capito. Stavate separati comunque? Eh. Ho capito. Cos'è il bambini piccoli? Cos'è il bambini più doppio per ricamare? Ah. Il bambini è quello per fare il fondo a croce. Ok. Grazie per questa dimostrazione. Grazie.